amici ma soprattutto nemici bianconeri buonasera 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 visto e considerato che ormai la Juventus è una barzelletta vivente una barzelletta vivente io l'altra volta ho denunziato ho denunziato Allegri per la sua come si può dire questo abuso abuso di diciamo d'ufficio adesso devo denunciare devo denunciare anche a Folletti quindi chiamo immediatamente l'ordine dei medici 00 77 44 52 pronto pronto buonasera sì sì buonasera buonasera parlo con l'ordine dei medici di Torino sì buonasera sono una seracusa natale è nati per vincere youtuber sì buonasera niente io volevo fare una denuncia una denuncia pesante molto pesante sì abbiamo c'è un medico un certo Folletti che praticamente fa il preparatore al medico della Juventus ma questo è un abusivo è abusivo con prove accertate basta basta che andate alla Juventus e fate una perquisizione a tutte le tabelle mediche è una è una è un abuso è un abuso lui ha preso praticamente la laurea in fisioterapista in fisioterapista quello che è quello che si spaccia al CEPU sì sì al CEPU la presa al CEPU sì quindi deve essere subito bloccato sì sì subito e a seguire faccio ancora la denuncia anche i carabin e poi faccio anche la denuncia all'AIFA associazione italiana farmacologica sì perché sicuramente avrà anche da razzo probabilmente dei farmaci scaduti ai ciclotori della Venezia perché non si può non è impensabile che si facciano male anche quando scendono dall'estero dopo aver ficcato sì 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 è così è così a CEPU adesso non lo so qual è il CEPU che dove si è dove ha preso la conseguita ma è un abusivo guardi è una cosa ma pazzesca 2 barra 3 infortunati a settimana no no perché naturalmente non sa fare il suo mestiere è uno che ruba ruba sostanzialmente sì esatto alla livello sì esatto ah e già voi vi eravate già allentati perché già qualcuno ha preso la mia la mia denuncia fate subito una perquisizione subito andateci con la camionetta andateci con il cellulare prendetelo perché non è possibile addio sta distrucendo tutti questo è precoloso anche per l'incolumentabile da livello fisica proprio esatto esatto all'ordine dei medici sì esatto la ringrazio la ringrazio gentilissimo 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 grazie e per forza per forza devono scattare le manette boss io voglio le manette boss adesso basta adesso ci siamo spappolati le palle ci siamo spappolati i coglioni questa ormai non è più una squadra una società questo è veramente questo lui da farmaci scaduti ora non è iniziato a parlare di doping o di altre cose perché col doping che stai bene almeno almeno col doping che stai bene qua questo riuscì sta spaccando tutti e sta spaccando alla mia denuncia dovevano seguire altre denunze a manetta non se ne può più basta 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 ma si c'è ingastati fino alla fine forza io